e io lo so lo so il perché oggi noi siamo in zona rossa è tutta una farsa ragazzi amici miei è tutta una farsa non è per il covid adesso ve lo posso rivelare è perché se ci togliessero da questa zona ci sarebbe un esodo quando io riapro la palestra ci sarebbe un esodo verso il dojo da tutta italia verrebbero qua e verrebbero per praticare karate assieme a noi e per divertirci e poi alla fine per farci anche una bella magnata con una birretta per chi è sopra l'età consentita no ovviamente sto scherzando è ovviamente sto scherzando benvenuti a questa nuova puntata di karate pedia il podcast in cui vi racconto la storia e i segreti del karate io sono eugenio credi dio e il podcast è live su su youtube il su youtube il venerdì sera dalle 19 e poi viene messo a disposizione successivamente sui vari canali di streaming fra cui spotify e itunes e ovviamente sul sito del dojo shinsui dove potete trovare un sacco di bella roba oltre che le puntate precedenti anche i corsi gratuiti piuttosto che gli articoli di approfondimento per cui vi consiglio sempre di fare un salto su dojo shinsui.com e se volete partecipare live al podcast vi conviene iscrivervi al canale telegram di karate anywhere perché comunico sempre lì in diretta direttissima gli orari e i giorni delle live perché qualche volta li devo cambiare così all'ultimo e avete sempre il vostro promemoria e trovate come al solito tutti i link sotto in descrizione ma bando alle ciance perché oggi vi ho promesso che mi sarei messo a nudo oggi mi spoglio vi faccio vedere tutto tutto tuttissimo ovviamente in senso figurato ok non vi preoccupate madri di minori che stanno ascoltando il podcast non vi preoccupate e oggi mi spoglio ma in senso figurato perché perché oggi vi voglio raccontare del mio più grande fallimento in assoluto nel nell'ambito del karate fallimento che fortunatamente e non da solo poi pian piano vi racconterò vi racconterò sta da facendo sono riuscito a trasformare nella mia più grande vittoria nell'esperienza più positiva forse che mi sia mai capitata lo so di solito gli insegnanti vi raccontano quanto sono bravi a a praticare tutti i loro successi le loro medaglie i loro diplomi e altro ma ragazzi io sono uno di voi a me non me ne porta un fico seco di creare un mito intorno a me io vi racconto le cose come sono andate papale papale proprio senza alcun problema anzi mi fa piacere poter condividere la mia esperienza con voi perché magari a qualcuno di voi può tornare utile e può essere di non tanto di ispirazione ma insomma può fargli capire che tutti tutti siamo passati da determinate fasi tutti abbiamo avuto dei problemi tutti alle volte abbiamo dovuto affrontare dei momenti difficili dei fallimenti e che insomma non c'è niente di sbagliato in nessuno di voi fa parte del nostro percorso di crescita io vi ricordo che la chat è aperta ho visto che state già iniziando a chattare fate benissimo e se c'è la la possibilità di cioè se avete piacere scusatemi a fare qualche domanda scrivete pure greta ti rispondo poi in privato perché la domanda non è pertinente alla puntata del podcast però ti rispondo poi in privato ok io e te ci sentiamo ci sentiamo successivamente allora ragazzi oggi parliamo degli insuccessi dei fallimenti io preferisco dire insuccesso fallimento è una cosa veramente triste qualcosa che ci ci mette di malumore e insomma non ci fa affrontare quello che è accaduto forse nella nella maniera corretta e in realtà a parer mio l'insuccesso è il motore della crescita sbagliare non riuscire a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati perdere alle volte è il motore della crescita quello che ci permette di evolvere è quello che ci permette di farci delle domande è quello che ci permette di imparare e di crescere il problema però è che mannaggia la miseriaccia a noi fin da quando siamo a scuola passano quest'idea che sbagliare è il male assoluto che se sbagli sei un po fessacchiotto e ti meriti il cappello con le orecchie dell'asino anche se poi ci menano il torrone questa storia dello sbagliando si impara è vero che sbagliando si impara però anzi ed è proprio per questo che è importante sbagliare io trovo che sia bellissimo sbagliare perché amici miei se non sbagliate molto probabilmente è perché non ci avete provato abbastanza siete lì fermi nella vostra comfort zone ok come dicono gli americani nella vostra zona di comfort siete contenti lì nel vostro bagnetto caldo e non siete disposti a fare quel passettino in più quel migliettino in più quel millimetro in più alle volte che trac ci fa sbagliare e però ci dà la possibilità di cercare di capire cosa abbiamo sbagliato di cercare di capire perché abbiamo sbagliato e ci dà la possibilità davvero di crescere e di diventare una persona migliore alle volte piuttosto che un praticante migliore o semplicemente di sistemare una tecnica per farla un po' meno diciamo epica ecco per per metterla in un in un ambito un po più terra 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 e secondo me personalmente il come si reagisce a un insuccesso quindi alla mancanza del raggiunto del voluto del scusatemi alla mancanza del raggiungimento del successo ce la posso fare fa di noi un po ci definisce un po definisce un po chi siamo ecco definisce un po il tipo di persona che siamo ecco perché a parer mio è importante sbagliare serenamente ed è importante reagire nella maniera corretta quando non raggiungiamo il successo che abbiamo sperato intanto saluto snix ben arrivato amico mio mi fa piacere averti qua vedo che stiamo aumentando con la mia super tecnologia se stai ascoltando il podcast in su spotify in differita non vedrai che io sono qua che giro con la testa come un matto perché sto insomma controllando che funzioni tutto le scorse puntate abbiamo avuto qualche problema mi sembra che oggi di problemi non non ce ne siano grazie grazie a dio ciao sossio capasso che nome particolare grazie per il bentornato da già la terza settimana che sono tornato su youtube e se tutto va bene rimango qua stabile se mi volete seguire durante le live ha avuto dei problemi abbastanza abbastanza seri insomma vorrei evitare di rientrare su twitch perché non mi fa impazzire come piattaforma la trovo un po lontana da me però purtroppo su youtube farle live è un po macchinoso per cui non è non è sempre non è sempre facile quindi sostanzialmente torniamo un attimino al discorso che sennò poi io mi perdo sapete che inizio a divagare e non arrivo al noccio della 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 questione e mi sono ripromesso che oggi mezz'oretta vi lascio andare anche perché lea sarete stanchi insomma faccio sempre le live in una live un po un po infame per cui cerco di non abusare della vostra pazienza della vostra attenzione dicevamo è importante sbagliare è importante fallire usiamo questa parola che ripeto a me a me non piace perché non mi piace perché fallire ci dà proprio l'idea di un qualcosa che è andato male che abbiamo fatto una schifezza io preferisco come vi dicevo il termine in successo cioè il mancato raggiungimento del successo perché alle volte noi magari non riusciamo a raggiungere quello che volevamo raggiungere in quel momento ok una gara per esempio rimaniamo nell'ambito del karate l'esecuzione di un kata una dimostrazione un esame non va come avremmo voluto però non è un fallimento deve essere un insuccesso cioè non siamo riusciti ad arrivare la dove volevamo però magari siamo arrivati da qualche altra parte e magari quel posto in cui siamo arrivati a quella quel qualcosa che ci permetterà non solo di raggiungere l'obiettivo che c'eravamo prefissati che raggiungeremo solo un po più tardi ma ci permetterà davvero di evolverci e di crescere quindi io sono una un fervente sostenitore del motto che ho citato prima cioè sbagliando si impara lo dico sempre ai ragazzini ai bambini che vengono da me non abbiate paura di sbagliare non abbiate paura dell'errore non abbiate paura dell'insuccesso anzi siate contenti perché come vi dicevo prima vuol dire che ci siamo spinti oltre abbiamo provato abbiamo tentato se noi non proviamo non tentiamo e non andiamo un po oltre quello che è il nostro limite percepito non raggiungeremo mai l'obiettivo che ci siamo prefissati e l'obiettivo che io mi ero prefissato è che forse non avrei raggiunto se non fosse successo quello che mi è successo era diventare un insegnante di karate quindi era di essere quello che sono oggi di riuscire a in realtà non pensavo all'epoca di aprire una mia realtà però quello di riuscire un giorno a calcare il tatami e a insegnare quello che ho imparato nell'arco degli anni perché a me il karate come sapete ha dato moltissimo per quanto riguarda la mia vita la mia e la mia esperienza personale e io ero veramente concentrato su questo obiettivo al punto che mi allenavo davvero con una concentrazione molto alta raramente rinunciavo agli allenamenti e quando c'erano stagili andavo a fare insomma non non mi risparmiavo in assoluto e infatti all'epoca ero il più bravo della mia palestra perché non era un dojo era una palestra e ero più bravo non mi teneva a testa nessuno non lo dico con per mancare di modestia però era era riconosciuto era riconosciuto da da tutti dal mio insegnante dai miei compagni di corso che avevano un grande rispetto per me tra l'altro e era riconosciuto anche da chi non praticava la stessa disciplina che praticavo io ma che comunque andava in in quella palestra lì e quindi insomma non sono mai stato di natura una persona orgogliosa uno che si pavoneggia che che altezzoso ho sempre cercato di insomma di sapere che ho dei limiti di riconoscere che ho dei limiti di riconoscere che ci sono delle cose che non vanno sempre come come uno che vorrebbe andare e di ricordarmi sempre che c'è sempre sempre qualcuno più bravo e più forte di noi e via dicendo però diciamo che ero uno abbastanza sicuro di sé sul tatami fuori dal tatami non moltissimo però sul tatami quella era era casa mia era era il mio mondo e lì dettavo legge io per cui quando c'ero da fare una dimostrazione andavo con quel minimo di emozione che che si ha quando ci si mette davanti un pubblico però andavo sereno quando c'era da fare un esame andavo tranquillo insomma ero un po spavaldo ecco diciamo che spavaldo forse è il termine è il termine corretto e cosa è successo è successo che un giorno dagli e che tiri dagli e che tiri dagli e nella mia corsa al al prendere qualifiche quindi allenatore istruttore via dicendo al prendere dan che è successo un giorno è successo che sono andato a dare l'esame da terzo dan in sede nazionale a gaeta non ricordo me lo ricordo ancora e quel giorno non ero proprio informissima ma era una questione di testa secondo me non era assolutamente una questione fisica era un po era un po sottosopra ero non ero sereno non avevo dormito bene la notte a me qualche volta succedono queste queste cose avevo 21 anni pensa un po era il mio mi sembra fosse il mio secondo anno di università sì era il mio secondo anno di università avevo 21 anni quindi ero ero uno sbarbino ero giovincello e ho 20 vabbè non importa e avevo una ventina d'anni non stiamo a puntualizzare e ad andare in maniera eccessiva sull'età e vado mi preparo tra l'altro mi preparo tanto per questo esame lo sapevo bene sapevo bene il programma sapevo bene il catà insomma ero ero tranquillo e sicuro di me però ripeto quel giorno c'era qualcosa che che non andava fatto sta che faccio il mio esame ho fatto un esame siamo sinceri decoroso non è stato un esame eccezionale è stato un esame decoroso ho fatto un catà decente avrei potuto fare molto meglio ho fatto un buon comitè sul comitè ero bravo tutta la parte applicativa l'ho fatta bene quella veramente è il pane mio tutt'oggi se si tratta di tirare giù delle applicazioni di fare un po di coreografie diciamo quelle le mi vengono molto bene il catà l'ho fatto decente infatti poi mi hanno chiesto un secondo catà e quello mi ha fregato proprio a bombazza perché è andata a finire che il secondo catà non che non lo sapessi ma non me l'aspettavo non me l'aspettavo e mia e questa richiesta ha un po minato la sicurezza che avevo in me stesso secondo catà l'ho fatto oggettivamente andiamo a cesare quel che è di cesare a dio quel che è di dio l'ho fatto male con alcune sbavature con alcune imperfezioni e forse anche un piccolo errore se non mi ricordo male vabbè dai e che ti ridaglie l'esame non era andato male soprattutto considerando gli altri presenti però alla fine vengo bocciato bambam vengo bocciato proprio sul catà in realtà la pagella perché quando all'epoca quando si dava un esame non so se succede ancora all'epoca nella federazione in cui ero all'epoca quando si dava un esame ti veniva data una sorta di pagellina con il voto per quanto riguardava il kyon il catà e il comitè era una pagellina un po strana era una pagellina un po strana perché erano tutti voti tipo 5 9 6 io ero abituato a voti a voti parecchio più alti e infatti ho scoperto successivamente pare ma in realtà a me della cosa non è che sia mai importato più di molto pare che in realtà il motivo della mia bocciatura fosse per colpire di più a livello politico il mio insegnante che per colpire realmente me il mio insegnante dell'epoca e tutta sincerità non lo so non ad oggi non mi interessa all'epoca mi interessava uh se mi aveva bruciato con la bocciatura ragazzi me fatto sa che comunque sono stato bocciato e eugenio è stato bocciato all'esame di terzo dan e doveva riportare il catà fra sei mesi sarebbe dovuto ripresentare in sede nazionale e portare nuovamente il catà a norcia me lo ricordo ancora ho dovuto prendere armi e bagagli andarli per fare un catà che poi mi hanno successivamente mi hanno mi hanno promosso e è stato un colpo è stata dura è stato un gran bel calcio nelle palle all'epoca perché ripeto io ero molto molto sicuro delle mie capacità io ho avuto alcune difficoltà a scuola ho avuto alcune difficoltà in università ho avuto dei periodi niente di grave ok non non pensiate a cose strane però ho avuto dei periodi che per un adolescente per un per un ragazzo sono stati un po più complicati c'è gente che sta assolutamente peggio vive delle situazioni terribili che io non ho dovuto vivere però fatto sta che all'epoca io ho avuto appunto queste queste difficoltà ehi ma manca il mio logo scusate ok rimettiamo il logo del mannaggia misera caratepedia mancava il logo di caratepedia e e quindi scusatemi scusami se mi stai ascoltando su su spotify ma non posso accettare che caratepedia non abbia il suo logo lì bello e torreggiate e quindi ti dicevo per me è stato è stato è stato duro ho vissuto un periodo di forte crisi veramente forte che mi ha fatto mi ha fatto arrabbiare con col karate non volevo non praticavo più volentieri e mi ha fatto arrabbiare con tutto il sistema il sistema ce l'ho ancora tutt'oggi ma non per perché sono stato bucciato per altri motivi e mi ha fatto mi dicono che si sente un po basso ok ragazzi ve lo alzo un goccio allora ditemi se così va meglio più alto di così mi sa che non posso fare fatemi fatemi sapere scusatemi per il per l'audio basso e vi stavo dicendo ho vissuto un periodo appunto di crisi ho vissuto una piccola morte una piccola morte per quanto riguarda il il karate una piccola morte che però mi è mi è servita tanto ma d'altronde da che mondo è mondo in ogni storia l'eroe a un certo punto deve morire per rinascere nuovo e per me effettivamente questa bocciatura è stato quello è stato un morire per poi riuscire a rinascere e devo tanto 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 al mio insegnante di allora non quello che mi ha portato a fare l'esame quello successivo al maestro strumiello e al maestro fabretti ai miei insegnanti che se per caso mi ascoltano mi stanno ascoltando adesso mi ascolteranno in differita saluto con tutto il quale è a cui mando un abbraccio grandissimo perché loro mi hanno sostenuto molto in quel in quel periodo mi hanno mi hanno aiutato mi hanno dato la possibilità di di praticare e soprattutto mi hanno spinto a farmi le giuste domande perché perché in realtà quando noi viviamo un in successo perché ripeto in realtà quello non è stato un fallimento perché se fosse stato un fallimento oggi non sarei qui probabilmente e non farei caratepedia non farei le lezioni online non farei tutta una serie di cose se non avessi vissuto quell'insuccesso quindi il mancato raggiungimento del successo all'epoca non mi sarei potuto fare determinate domande ed è stato il farsi quelle domande che ha fatto sì di trasformare quel insuccesso scusate mi continuo a ripetere questa parola però di fatto questo è quell'insuccesso in una forma di successo e che ha cambiato in maniera radicale la mia mentalità il mio atteggiamento nei merito in confronto al karate in confronto a tutto quello che sta dietro al karate federazioni varie ed eventuali e che alla fine mi ha portato a essere qui oggi ad insegnare ai miei ragazzi e a a fare tutto quello che ho fatto perché perché quando noi viviamo un insuccesso ci troviamo in quella che un una persona che stimo molto e che non si occupa però di di karate ma si occupa di di comunicazione chiama stanza delle domande cioè io vivo il mio insuccesso non raggiungo il mio obiettivo miss come dicono gli inglesi lo manco allora cosa posso fare beh cosa numero uno mi arrabbio ci sta o ci rimango male ci sta ok assolutamente anzi forse se non avessimo questa reazione vorrebbe dire che non ci tenevamo così tanto a quella quella determinata cosa quindi lo starci male il l'avere un attimo di sconforto l'arrabbiarsi ci sta a botta calda anzi forse anche doveroso perché ci permette di scaricarci un po però poi abbiamo due possibilità due scelte davanti a noi scelta numero uno scelta numero uno do la colpa agli altri prendiamo il mio caso va bene mettiamo che quello che ho sentito dire e cioè che quella bocciatura non fosse realmente per colpire me sia fosse una cosa vera sia stata sia stato effettivamente così bene io avrei potuto rimanere arrabbiato e dire per tutto il tempo che non era giusto che era vergognoso e che non era colpa mia e che mi avevano silurato bla 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 e dar la colpa alla commissione d'esame bla 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 ok bene posso dare colpa agli altri ancora quindi non alla commissione d'esame in questo caso ma al mio insegnante che non mi aveva preparato sufficientemente bene posso trovare una scusa quel giorno non stavo un granché bene però oppure posso farmi un esame di coscienza e dirmi eugenio o chi che sia quel giorno anzi facciamo ancora un passo indietro ti sei preparato sufficientemente per quell'esame sì in tutta sincerità sì quel giorno eri nella forma migliore per dare quell'esame non proprio perché non lo so lì ad oggi lo so era una questione tensiva non ero quel giorno non ero in grado di raggiare la tensione quando sei salito sul tatami per fare l'esame hai fatto tutto quello che in quel momento potevi fare sì ok allora non diamo la colpa agli altri smettiamola di addossare responsabilità nostre altrui questa potrebbe essere una delle più grandi azioni che potremmo fare nella nostra vita se noi smettessimo di dar sempre la colpa agli altri di quello che ci succede prendiamoci la nostra responsabilità spesso è colpa nostra ok non colpa però magari è una responsabilità nostra non abbiamo fatto quello che potevamo fare non ci siamo allenati abbastanza non abbiamo studiato abbastanza non abbiamo avuto l'atteggiamento migliore forse avremmo potuto muoverci in maniera differente ben arrivato Andrea ben arrivato quindi prima cosa esame di coscienza ho fatto tutto quello che potevo fare sì nonostante tutto questo come andato l'esame non come avrei voluto pazienza però tu hai qualcosa da recriminarti no e questa secondo me è la cosa più importante in assoluto ogni volta che dovete affrontare qualcosa chiedetevelo chiedetevelo mannaggia la misera io lo dico sempre soprattutto ai bambini quando magari li portiamo in gara perché hanno piacere di andare a provare a fare una gara perfetto non è andata come volevamo va bene ma tu sul tatami quando ci sei salito hai dato tutto te stesso hai fatto tutto quello che tu in cor tuo potevi fare in quel momento sì bene e allora devi essere in pace con te stesso soddisfatto di quello che hai fatto perché tanto amici miei c'è sempre qualcuno più bravo di noi c'è sempre qualcuno che ci frega diciamo così e che ci batte ok e alle volte ci sono situazioni tali per cui nonostante noi siamo preparati nonostante noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo nonostante noi abbiamo dato il 100 per cento questo non era sufficiente o siamo stati sfortunati mi sarà capitato tu che mi stai ascoltando adesso che magari sei andato in università e ti eri fatto un culetto tanto per studiare e per imparare tutto di quell'esame il professore tranti ha chiesto quell'unica cosa mannaggia la pupazza che tu non hai studiato ma porca miseria o ecco la sfiga ok quella sfortuna quindi cosa numero uno chiedersi farsi un esame di coscienza e se risultiamo positivi all'esame di coscienza nel senso che sì ho fatto tutto quello che potevo fare in quel periodo non non sarei stato in grado di fare di più va bene abbiamo raggiunto un attimo un limite non è un problema però non è il caso di rammaricarsi troppo perché abbiamo fatto tutto il possibile forse non eravamo ancora pronti forse non era ancora il momento opportuno se invece la risposta è no non ho fatto tutto quello che avrei potuto fare beh allora lì bisogna iniziare un attimo a dire come mai perché non ho fatto tutto quello che avrei potuto fare dove ho sbagliato cosa avrei potuto fare di più e lì dobbiamo arrabbiarci con noi stessi vi faccio vedere il dito con noi stessi ok non ci si può arrabbiare con terzi mannaggia la miseria è facile sbolognare il bidone ad altri è molto più difficile farsi un esame di coscienza e dire forse per quell'esame non ho studiato così tanto forse per quel colloquio l'ho preso forse quel colloquio l'ho preso un po sotto gamba forse quella cosa lì non è andata così perché io non ho fatto quello che avrei dovuto fare e vabbè poco male perché vuol dire che in quel caso noi abbiamo gli strumenti per poter riprendere la preparazione e la prossima volta farci trovare più preparati è lì che si di è lì lo sbagliando si impara capite non è il fatto che uno vada e boom a botta sicura si fa quello che si deve fare è il fatto che nel momento in cui noi abbiamo sbagliato e abbiamo ci siamo resi conto che effettivamente eravamo carenti in qualcosa bene allora facciamo tesoro di questa esperienza rendiamo la nostra e la prossima lavoriamo sulle nostre carenze e la prossima volta porca caccia la miseria ma ma ci trovano non preparati di più spacchiamo tutto ok e allora ci evolviamo cresciamo e diventiamo anche persone nuove migliori più preparate in questo caso più intelligenti non saprei però comunque ci evolviamo e dopo esserci fatti questo esame di coscienza quindi dopo essermi fatto questo esame di coscienza e in questo caso aver detto sì io effettivamente in quel periodo ho fatto tutto quello che ho potuto fare cosa ho sbagliato però ho un po sottovalutato l'esame ok eugenio l'hai sottovalutato mannaggia la miseria diamo ripeto diamo a cesare quel che di cesare ti saresti dovuto preparare un pelo meglio e soprattutto eugenio mannaggia a te saresti dovuto andare mentalmente un po più diciamo focalizzato è un po più centrato non partendo dal presupposto che tanto se tu arrivi la gente arriva eugenio ti e ti lanciano i fiori questa è stata la prima domanda che mi sono dovuto fare seconda domanda che mi sono dovuto fare per uscire da questo periodo di crisi vera e propria è ma io ed è una domanda che faccio anche a te che mi stai ascoltando adesso alle 19 30 di martedì 15 marzo 2021 ma io perché pratico karate anche perché diciamoci la verità io non sono un agonista non ero un agonista a me l'agonismo ha sempre fatto un po schifo l'ho fatto per un brevissimo periodo non mi ha dato niente anzi mi ha tolto parecchio e ho deciso di smetterla di di praticarlo perché pratico karate allora perché io non lo pratico per ricevere delle medaglie lo pratico perché voglio diventare un insegnante ok va bene nel momento in cui divento un insegnante e allora ho finito il mio il mio mio percorso non avrò più stimoli per continuare a praticare karate non va bene non va bene no allora andiamo scaviamo qual è il perché profondo è qual è la vera motivazione se voi siete in grado di rispondere al perché di trovare le motivazioni le ragioni profonde allora non vi smuove nessuno e nessun insuccesso nessuna mancanza di risultato farà sì che voi abbandoniate qualcosa che amate o che magari vi manchi l'energia per riprendere magari vi dovete prendere un attimino di pausa quello ci sta dovete un attimo sistemare anche il fatto che vi siete presi insomma una cantonata però 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 vi posso assicurare che se voi avete chiaro il perché fate una cosa difficilmente la mollate e ringrazio tantissimo Sossio giusto spero di sì di aver detto il nome il nome giusto per il per il commento dove mi dice che ho perfettamente ragione volevo farti apparire amico mio scusami ma ok diamo un po niente non ce la facciamo mi spiace amico mio comunque ho letto scusami non non so perché non riesco a farti apparire il il commento allora leggo 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 perché mi state iniziando a scrivere in chat e poi vado avanti ovviamente non vi lascio qua perché immagino che adesso non riuscirete a derubire se non sapete perché è un genio pratica carate leggo e così riusciamo a riusciamo a a interagire con tutti mi spiace soltanto perché avevo quella bellissima funzione che vi faceva apparire in chat ma ragazzi non riesco che vi faceva apparire in video ma non riesco a ad attivarla allora damiano tra l'altro ciao damiano ben ben arrivato non so se se sei arrivato adesso ma data la tua il tuo intervento dico di no oltre a far salutarci sembra il mio esame di primo dan anch'io bene sul comitè bene su interazioni oppositive poi il kata l'ho sbavato un po mi hanno fatto fare il secondo che è andato un po meglio poi comunque sono stato promosso ma con me stesso non mi sentivo più tanto ok e sì perché alle volte damiano ha ragione e alle volte almeno per un la teca poi non so secondo me per uno sportivo in generale è quello che manca alle volte vinciamo la medaglia prendiamo la la qualifica ok riceviamo il dan nella cintura però dentro non siamo soddisfatti dentro ci diciamo certo che poteva andare un po meglio certo che forse non ho fatto proprio tutto quello che avrei potuto o dovuto fare e sta cosa ci logora dentro mannaggia la miseria perché poi non riusciamo non riusciamo ad andare avanti cioè non che non riusciamo ad andare avanti ci continua è il sassolino nella scarpa non essere soddisfatti della propria performance è un sassolino nella scarpa un picchio in testa che continua a batterci e da veramente fastidio una volta viene da aggiungere da amiano perché posso dirti tristemente che ho visto ahimè dei degli esami ho visto degli esami da istruttore allenatore maestro da primo secondo terzo quarto anche quinto da e io mi chiedo se davvero davvero quelle persone fossero soddisfatte della loro performance se tutto ciò che gli interessava era semplicemente avere il pezzo di carta piuttosto che la il diploma appunto piuttosto che che la qualifica o altro perché purtroppo ho visto spesso diciamo delle degli esiti opinabili ma ma non ho voglia oggi di mettermi a fare delle delle polemiche che non hanno senso di esistere diciamo diciamo la verità comunque torniamo torniamo indietro e quindi una volta che mi sono fatto appunto il mio esame di coscienza e questo è quello che ti consiglio di fare qualora tu non raggiungessi il successo che hai ti eri prefissato quindi prima cosa mi faccio il mio esame di coscienza mi dico ho fatto tutto quello che potevo fare sì no cosa se sì bene ok e vabbè pazienza è andata così non devo ricriminarmi niente se no allora vediamo un attimo cosa ho sbagliato però anche lì ragazzi non datevi le bastonate le bottigliate sulle barri ok non iniziate a fare il mea colpa è l'errore di preparazione succede l'errore succede se non succedesse sarebbe perché siamo dei bomber non siamo non siamo umani è l'errore che ci rende umani tutti possono sbagliare quindi non fatevi dei dei non fate davvero il giapponese che fa seppuku perché non è riuscito a ha toppato la preparazione ha toppato qualcosa non importa si fa un passo indietro e si aggiusta ok anzi è occasione di crescita e poi se effettivamente dopo quell'insuccesso avete ancora siete ancora un po in crisi e vi chiedete ma devo continuare a fare sta roba sì no mi piace non mi piace no io mollo tutto sapete quanti ne ho visti ho buttato fallito l'esame mollo tutto non li vede più in palestra o altro se succede questo chiedetevi perché rimaniamo nel karate perché pratico karate perché eugenio pratica karate bene eugenio si è reso conto lì più che mai che praticava karate perché il karate lo faceva stare estremamente bene e non era disposto a far sì che il giudizio di altri gli togliesse una delle cose che amava di più nella sua vita e che effettivamente è vero che lui voleva insegnare il karate arrivare a essere quello che stava diciamo dall'altra parte della fila durante il saluto ma che il motivo non era perché sentiva la necessità di come dire di di essere idolatrato idolatrato diciamo così passatemi questo termine eccessivo ok anche se alle volte gli insegnanti vengono un po idolatrati però di essere lì e ricevere il rispetto e la stima di tutti no lui voleva insegnare karate perché il karate gli aveva dato così tanto che beh intanto si sentiva un po in debito col karate e poi ha sempre pensato che se tutti praticassero karate forse il mondo sarebbe un posto pochino migliore se non il mondo intero almeno la nostra fetta di mondo la nostra società la nostra scuola la nostra famiglia la nostra via perché comunque il karate personalmente poi ognuno ci ci trova quello che ci trova personalmente a me il karate ha dato tante cose che mi hanno permesso di andare avanti in alcuni momenti complicati nella mia vita e e che credo che non sarei riuscito ad affrontare come ho affrontato se non avessi avuto quell'esperienza alle spalle l'autodisciplina il non mettersi mai al primo posto il farsi spesso delle domande in quel senso il il levitare l'ego non nel dire non sono bravo cacchio se siete bravi è giusto dire sono bravo porca la misera sei bravo sei bravo però ricordarsi sempre che c'è qualcuno più bravo di noi che non siamo imbattibili che c'è sempre qualcuno da cui possiamo imparare e che può darci qualcosa anche solo uno spunto di riflessione e vi posso garantire che spesso per la mia esperienza sono le cinture bianche che ci danno le maggiori lezioni e quindi io mi son detto ma me di avere o non avere quel pezzo di carta frega qualcosa in realtà no è quel pezzo di carta che fa il karateka che sono no è una persona che mi vede una volta per 20 minuti su un tatami che può giudicare il mio percorso reale no e allora sapete che vi dico e io torno al dojo pratico karate con il cuore e con con la gioia di essere lì insieme ai miei compagni insieme al mio al mio maestro ai miei maestri all'epoca perché ero a torino e non me ne frega niente di tutto il resto poi comunque esame l'ho dato e come l'ho ridato ho ridato la parte che che mi mancava e come sapete è andata bene ho continuato anche se adesso sono di nuovo un po un po in crisi dovrei preparare il quinto danno dovrei dare il quinto danno non so sono un po indeciso sul darlo o meno perché un po per i motivi che vi ho appena vi ho appena detto alla fine non è quel foglio di carta che fa di me un karateka migliore e ultimamente alcune cose a livello di federazioni e di promozioni mi hanno un po un po deluso quindi non lo so sono un po un po titubante per cui amici miei mi raccomando nel momento in cui non raggiungete un successo oppure nel momento in cui fallite oddio ho fallito non vi disperate prendetela come un'occasione è un'occasione lo so che in quel momento vi brucia il sederino ok devo trattenermi perché c'è greta so che c'è greta online lo so che in quel momento vi brucia il sederino vi dà fastidio magari vi sentite anche male ma non vi disperate chiedetevi se avete fatto tutto quello che avreste potuto fare e se lo avete fatto siate contenti con voi stessi voleva solo dire che probabilmente quello non era il momento o il luogo per raggiungere quel successo non eravate ancora abbastanza maturi se invece non l'avete fatto beh date a cesare a quel che di cesare tanto l'abbiamo già detto 5 6 20 volte in questa puntata e fate un passettino indietro cercate di capire cosa dovete migliorare e recuperate ogni esame si può ridare non è non è mai definitivo esame o buona parte delle cose che succedono durante il corso della nostra vita si possono rifare fortunatamente e poi se veramente siete in crisi come sono stato in crisi io fermatevi come mi hanno consigliato i miei maestri ragionate e chiedetevi perché lo faccio mi dà gioia c'è una motivazione profonda scoprite questa motivazione e se la scoprite ragazzi non vi ferma più nessuno sarete disposti ad andare contro tutti e tutto non ve ne importerà più un fico secco voi sarete in pace con voi stessi sereni con voi stessi e continuerete il vostro percorso senza alcuna problematica prima di salutarvi saluto un attimo andrea velocissimo che scrive in chat non sentitevi in colpa che io pubblico video sulla pagina facebook esercizi tutti sbagliati andrea mio allievo online un bravissimo ragazzo che si sta facendo un fondello tanto bravio andrea super complimentoni e senza sosta lui pubblica i video dei suoi allenamenti perché chi chi è iscritto la mia accademia online lo può fare c'è un gruppo riservato lui pubblica i video dei suoi allenamenti e io lo correggo indifferita ed è bravissimo io l'ho già detto un sacco di volte non ha mai praticato karate prima ed è questo il segreto andrea devi avere la faccia come il fondo schiena fregartene farlo perché ti fa stare bene ok e vedrai che diventerai un bomber ah mi ha scritto ancora damiano quindi aspetta ancora un attimo a salutarvi ora vi dico anche la mia perché è un po particolare ho lasciato da ragazzo per un grave incidente dove ho perso la vista ad un occhio poi col passare degli anni mi fermava la paura di perdere un amico mio non mi è arrivato il resto quindi se hai piacere un attimo a scrivere a finire di scrivere ne sono ne sono contentissimo perché penso sia veramente eccolo allora ve la ve la rileggo un attimo è così la la sentite tutta perché questa va assolutamente sentita ora vi dico anche la mia perché è un po particolare ho lasciato da ragazzo per un grave incidente dove ho perso la vista ad un occhio poi col passare degli anni mi fermava la paura di prendere un colpo ma la passione era tante dopo anni sono riuscito a risalire sul tatami e combatto grazie di cuore damiano per aver condiviso con noi questa cosa qua e tra l'altro anche damiano è uno dei miei allievi online in questo periodo almeno e anche lui è attivissimo ed è un'altra di quelle persone che ci mette il cuore praticate col cuore castaneda in uno dei suoi libri se non mi ricordo male il primo a scuola dallo stregone scrive o meglio fa dire a don juan che lui segue solo sentieri che hanno un cuore e se questi sentieri hanno un cuore allora lui li segue fino in fondo ecco fate così seguite il vostro cuore seguite dove fate qualcosa dove c'è il vostro cuore e non disperate se all'inizio è difficile mai ok il karate ci insegna che le difficoltà ci colpiscono quando noi ci arrendiamo è così se prendete una batosta ok è giusto fermarsi le chiamoci un attimo le ferite ma non fatevi portare via ciò che amate da altri non fatevi portare via ciò che amate dalla paura del fallimento non fatevi portare via ciò che amate dalla paura e però quando sbagliamo riconosciamo l'errore ricordatevelo facciamo un passo indietro riconosciamo l'errore e cerchiamo di imparare davvero da questo errore ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia con me questa sera e vi aspetto lunedì prossimo alle 19 sempre qui su youtube direi visto che siamo riusciti a fare la live senza eccessivi problemi per una nuova puntata di karate pedia il podcast in cui vi racconto la storia e i segreti del del karate vi ricordo di iscrivervi al canale telegram di karate anywhere per essere informati quando vado live di fare un salto sul sito del dojo shinsui tra l'altro c'è una nuova home page fighissima per vedere tutti i contenuti gratuiti che metto a disposizione tua di tutti gli appassionati grazie di cuore per essere stati qui con me davvero spero che questa live vi sia questa puntata vi sia piaciuta fatemelo sapere se avete qualcosa da condividere o di cui avete piacere dirmi scrivetemi scrivetemi un commento scrivetemi su telegram sui canali social tanto sapete che sono a vostra disposizione nel limite del possibile e grazie vi auguro buona serata buona cena un abbraccio a tutti buona pratica e ci vediamo la prossima settimana ciao ragazzi ciao ciao ciao